ciao amiche il video di oggi è dedicato a tutte noi in particolare a quei giorni ogni mese sono dolori ma non deve essere così lo so ci hanno abituate che il ciclo è per forza qualcosa di doloroso e fastidioso che porta mal di testa dolori crampi gonfiore sbalzi di umore e per molte amiche è così per fortuna l'alimentazione giusta può darci una mano poi se volete un coaching di naturopatia con me per la vostra situazione specifica contattatemi dal link che trovate in descrizione adesso ecco la dieta per il ciclo mestruale si tratta di consigli scientifici confermati da recenti studi svolti anche in italia per sapere come fare mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video nella fase iniziale del ciclo quando ci sentiamo cariche e piene di energia si possono consumare cibi ricchi di ferro e vitamina c per un assorbimento migliore contro la ritenzione largo a cibi drenanti e detox come sedano zucchine e cetrioli ci sono tanti alimenti e rimedi naturali a favore della sindrome premestruale li trovate tutti nell'ebook che ho scritto su questo argomento il cui link è in descrizione anche lo sport non deve mancare perché aiuta a tenerci in forma e positive quando sentiamo che il metabolismo rallenta ci sentiamo stanche senza forze è il momento per fare alcuni aggiustamenti e secondare il corpo continuiamo a fare sport per tenere alto il metabolismo e soprattutto bruciare le calorie in eccesso che potrebbero accumularsi a causa della fame e della voglia di dolci ecco e per le voglie peccaminose ecco come fare per la voglia di dolce bene la frutta fresca per chi non resiste al cioccolato rigorosamente fondente almeno al 70 per cento e senza zucchero bianco per chi proprio ha fame stare leggere con proteine magre grassi vegetali come avocado e frutta secca alla larga da formaggi salumi carni rosse e ovviamente cereali raffinati sul canale trovate un'intera playlist dedicata al benessere femminile per vederla iscrivetevi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra vivi consapevole e vivi meglio grazie